Musica Ehi la giù ormai, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome Ci troviamo sempre nella sedia di questa cittadina Ehm... Ah, lui non è messo benissimo, ma non aveva un cuorino, mi sa, eh No, qualcosa ce l'abbiamo, in realtà Prima non potevamo curarlo perché era... Perché era avvelenato, non ho capito perché non possono essere curati se sono avvelenati, ma... Ma non, ma non, ma non, ma non possono essere curati se sono avvelenati, ma... Ecco, ecco, io ho delle curine per cui posso... Ma no, ho un po' di problemi, stai abbastanza bene Dove sono i nostri... I nemici sono lassù, e poi si arriva lassù da qua Oppure da qua Eh no, questo è l'arciere? No... 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 Adesso riesci ad adeguare quelli, si Molto bene E Yulia riesci per caso ad arrivare... in zona, eh? Tendon Bravissima Brava Non so se ha senso che ci dividiamo Secondo me no Per cui Voi correte fortissimo di qua Eh si infatti Noi sono rimasti solo più 4 Però che farei Visto che abbiamo tutta questa zona tranquilla Ok Stone Cutter Fuoco E altro fuoco Ma no sono troppi arcieri eh sono usciti giù sotto ho visto come è andato il fuoco dai sono tantissimi tutti di qua no 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 Dai, questa è la parte più noiosa in cui devi semplicemente aspettare che succedano cose, va bene, perché sono davvero troppe unità a schermo Stai fuori da me, non ho nulla a fare con questo, aiuto, riuscire a trovare un posto per salvare Stiamo a uccidere un posto! Siamo a uccidere! Ah, sono in tre, qual è? Meglio che niente, perché questo è il palpenerato, ah perché gli hanno mandato un sacco di frecce in faccia No, allora, andare a prendere gli arcieri perché qui dopo rischio che quegli altri sono scudati e non posso farci niente In realtà no, per cui può aver senso Oh, sì Allora, avanziamo con entrambi gli arcieri. E vediamo quanto riusciamo a fargli il danno. Dai, Giulia, facci sognare. Invece niente, però vabbè, possiamo seccarlo facilmente con lui. No, 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 no. No, 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 no. Ottimo. Avrei sperato un po' meglio, ma comunque ci sta. Facciamo un inferno di poco diamo qua, eh? Vedete, anche un scatter. E uno stone. Sì, se ne scappano tutti fortissimo, vuoi vedere? Aia, adesso da fuoco tutto. Eh. L'avevo appena curato. No. Niente, niente, sono proprio un po' triste, perché... Non c'è nulla che va come dovrebbe andare. Non c'è nulla che va come dovrebbe andare. C'è... 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 Ci sono troppi attacchi ad area su questo Expedition's Room. Non mi piace questa cosa. Troppi status, troppe... E kill Izzil, sì, ma ci sono 80 quintali di persone prima di Izzil. Sì, 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 sì. Devo... Devo... Dobblichizzarti. Però così adesso non potrò fare un Kaiser di nulla. Allora. Giulia, ok, se c'è quello... Ma per lì sono di livello 13, che cavolo di problemi abbiamo? Di livello 13 cosa, c'è il richiamo nel loro tale. Ogni era all борozi. Tu altro, per caso, hai il... Ho solo un Armor Shred. No, ma volevo che qualcuno... Senti, io sto punto. Non so più che cavolo fare. C'è ancora qualcuno che ha delle robe, scusatemi. Giulia, hai dei giavellotti, vai. Giulia ha fatto, lui non c'è più. Tu vacce, seccalo. Per forza. Tu togliti dal fuoco, però, please, magari. Ah, ma lui ha ancora dei... Lui non ha fatto niente. E' su quello. Non gli ha fatto shield. Cioè, se c'è lo scudo, non toglie l'armatura? Che catapulte non mi stanno facendo niente di buono, comunque. Di qualcosina fanno, per carità, ma... Guarda che mi muore anche quello. Pure venerdata, Giulia. Sono ancora tantissimi. Niente, ci sono andato, l'abbiamo perso anche lui. Eh, non l'assi, please, per favore. Per favore, sennò... Fa un casino. Friendly turn. Sì, ma... Oh, che fastidio dover guardare tutte queste robe che passano, succedono delle cose. Che fiume... 4. 3. 1. 5. 5. 8. 10. 12. 12. 14. 15. 16. 17. 14. questo è imparicato l'altro sta per morire Giulia, riesci a svincolarti in qualche modo? aspetta, facciamo che prima e poi nooo con uno? eh, dovrebbe morirci perché comunque gli è rimasta solo più cioè burning ok lui può fare qualcosa? no lui dov'è? lui è qua appena l'attacco d'opportunità però oh ti fermo eh, hanno fatto solo un pelo di danno là ah no ah no, le cose sono andate giù e il deal non è messo benissimo però dobbiamo arrivare c'è il deal un altro fuoco un altro fuoco noi ci proviamo allora ok quello è andato quello è andato quello è andato aia o comunque anche a facile non ti regala niente di nuovo costruire ma basta noi non abbiamo la possibilità noi non abbiamo la possibilità di fare quella roba là che abbiamo in monouso non lo so continuamente a spammare roba ma mi hai tirato su se neccio beh buono avrò comunque da passare anni a recuperare tutti quei cevellotti si è quella cosa che ho fatto perché ho sprecato ok arrivano altre tre allora lui che ha dei giovellotti mi pareva è mezzo morto per cui che cavolo ci faccio io mi pareva E' andato Cambiati vai qua Eccala te pareva Se non si pigliava il burning in faccia Ok almeno due shredded ci sono Beh te pareva No aspetta vai prima con questo Poi vai con questo No basta Lui riusciamo a fare qualcosa No E' andata No Il rischio di bruciare noi E' andata e 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 è andato ma sono ancora tantissimi come è possibile ok ma lel ma piccola ah non abbassato il zoom non ho nulla non ho nulla non ho nulla non ho nulla ma non ho nulla ma non ho nulla ma non ho nulla non ho nulla ok 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 per caso è anche e no è stabilizzato ma non ho nulla ma non volevo colpire i civili porca mannaggia è quella che è ancora tutto è tranquilla ma eh vai mi sta andando giù di il fuoco comunque non ho nulla non ho nulla ma è non ho nulla ma comunque è che rimangono 4 turni ok devo spiegare 4 turni che non è scontato ma per cui hanno panicato guarda che cavolo di macello qua di sangue di fuoco di veleno tutto insieme ok quella è andata ok per quanto spero che non siate troppo casino perchè ci sono dovevo urlare qua di giro che volete fare ci sono cose che capitano eeeh vieni vieni dai ce la stiamo facendo ce la stiamo facendo questo è che in mezzo il fuoco è rappresuramente più brutto ma che che ah lui non sta benissimo eh almeno uno dei pochi che ha ancora dove sono amici non lo vedo neanche più ok spaziamo un po' vuoi fare che così o meno lei dovresti riusci a prenderla ok ah yulia qua riesci a prendere lei? si si lui invece no ma lui è proprio steso eeeh lui non sta benissimo ma ecco che vuoi ma lui ha una benda guarda mi ha usato praticamente tutto quello che avevamo non ce l'avevo con lui scusatela no basta catapulto per via no ah mi tira sul buono e ci continua a a tirarmi su e lui continua a cadere dai che rimasta sul più laine dai che ce la si fa Oh, è stata tostina però comunque Ma anche perché a saperlo che c'era tutti si rinforze avrei aspettato un po' di più Cioè nel senso Sono andato in là per cercare di toglierlo fuori subito Ma invece bisogna aspettare di avere molta più gente di rinforzo Eh, guarda, ce n'è altre ancora Allora, tocca a noi Oh, vediamo se con gli arcieri riusciamo a tirarla giù Siamo molto contenti Ah, è andata Eh, allora Allora tu spostati, scusami eh Tu corri qua Tu dai la tua pomellata qui Qui corri Corri Yes Ok Ok Ma come li abbiamo saccati tutti? Non c'è più nessun altro Eh, abbiamo usato tutto 15 giavellotti 3 bende Una torcia Non c'è più risponderei la prima ho tutto il rispetto dovuto non siete in posizione per criticarmi avete bisogno di me d'accordo quindi manteniamo il nostro rispetto reciproco e ricordiamoci dell'accordo è che ci sono un'attività mi piace se il tuo capacità se il tuo capacità si potete 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 bella l'attività se è lì è che non non si non 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 ora che abbiamo la possibilità di conquistare i sogni dei sogni, potrebbe essere il tempo di dimostrare i nostri amici ascolti al vecchio servus, ha fatto sensazione Arrogance è attrazione solo quando è benvenuto non è facile per un leader accettare a loro professore soprattutto quando è un professore servus sei sicuro che possiamo confondere a questa nuova legione? dopo tutto, non sono romani non mi fido di loro ma non l'abbiamo scelta allora dovremmo trasformare i loro attenzialmente via Fimi! te romani sono tutti una parola e nessuna azione avete sentito la regina cosa stiamo aspettando? muoviamoci direi che appena ci sblocca qua metterei in... concluderei il video che è già durato mezz'ora però mi sa che adesso ci farà tutto un altro spiegone di cosa succede e cosa non succede spero che mi sganci però invece no ok abbiamo una seconda legione ai nostri comandi ok hunting ground e idolat outpost ok ma possiamo controllare... vabbè lo scopriremo nel prossimo video intanto salviamo su questo overwrite e grazie per la visione ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti buona giornata ciao a tutti